E' stato eletto con una maggioranza bulgara, distanziando nettamente il candidato Maggiolini, con un consenso ampio, ampissimo da parte degli studenti. Gino Crisci, già preside della Facoltà di Scienze e Matematiche, Fisiche e Naturali, da oggi è il nuovo rettore dell'Università degli Studi della Calabria. Non ufficialmente perché la nomina verrà solo a novembre, ma la sua vittoria, dicono i più, segna un cambiamento di passo all'interno del campus. L'hanno già ribattezzata il rettore degli studenti. Sì, è vero. Infatti, come ho detto diverse volte, l'ho scritto anche perché ci tenevo, la cosa più interessante di questa campagna elettorale è scoprire studenti di qualità. Ci hanno aperto un dialogo bellissimo e loro mi hanno sostenuto, sono contento. Spero di non deluderli. Faremo di tutto. Infatti, sono degli aspetti positivi. Insieme al fatto di aver scoperto un'università che vuole ancora combattere e contare, questo è l'altro aspetto buono di questa campagna elettorale. Oltre a contare dello stress che ci ha causato, ma quello poi passa. La sua elezione è coincisa con la pubblicazione del bando per le nuove matricoli, quindi si avvia questa nuova stagione. Questo è importante. Io spero che le famiglie calabrese ci dirino la fiducia. L'università ha fatto tanto per i giovani calabrese nel passato. Io sono convinto che una spinta rinnovata potrà fare ancora di più per il prossimo e per i prossimi anni. Anche perché c'è tutta la riforma che sta partendo, sono abbastanza ottimista. Speriamo che ci diano questa fiducia che credo abbiamo meritato nel passato e spero che meriteremo anche per il futuro.